Conferenza Stamba per illustrare il passaggio di Carlo Costantini in un'altra squadra. Sì, io da dieci anni ormai milito nel civismo, sono il promotore del referendum sulla Grande Pescara, ho presentato le liste di Faremo Grande Pescara, ma ormai sento il bisogno di riprendere l'attività all'interno di un movimento politico e devo dire che il movimento politico di Carlo Calenda rappresenta esattamente quello che identifica il mio modo di vedere la politica oggi. Calenda esprime una rivoluzione che è culturale prima ancora che politica, perché parte dalla conoscenza e dall'approfondimento del problema fino ad arrivare alla soluzione. Oggi purtroppo i partiti politici sono molto spesso impegnati in contrapposizioni sterili nel movimento di azione in Carlo Calenda e invece ho trovato la capacità di costruire un sistema di proposta che non subisce gli eventi, ma che li determina e che cerca di gestirli. Fino ad oggi tutti i grandi cambiamenti che l'Italia sta subendo, anche in positivo, sono determinati da fattori esterni. È stato il Covid che ci ha costretto a riformare la giustizia, che ci ha costretto a intervenire sulle grandi infrastrutture. Io vorrei, immagino invece, un paese in cui sono i politici che rappresentano le aspettative dei cittadini, che studiano i problemi, interpretano i bisogni di cambiamento e fanno le proposte. In questo momento credo che Carlo Calenda rappresenti davvero la proposta più nuova e più innovativa nel panorama politico nazionale. Praticamente che posizione avrà in Consiglio Comunale? In Consiglio Comunale parlerò con il coordinatore regionale. Io fino ad oggi ho sempre avuto una posizione oggettiva, che dal resto risponde perfettamente allo spirito del movimento politico di azione. Si valutano le proposte, le proposte che sono condivisibili si sostengono, le proposte che meritano di essere avversate vengono avversate. Continuerò in qualche modo a fare quello che ho sempre fatto, ovviamente relazionandomi con l'onorevole Sottanelli, che è il coordinatore regionale di azione. Onorevole Sottanelli, con Carlo Costantini si acquisisce un peso maggiore. L'azione in Abruzzo è nata dieci mesi fa e in dieci mesi stiamo crescendo molto. L'adesione di un consigliere comunale di qualità, così come Carlo Costantini, con tutta la sua storia, non fa che inorgoglire e arricchire maggiormente la nostra squadra. Stiamo lavorando bene in questi dieci mesi. Carlo ci darà una grossa spinta non soltanto su Pescara, ma anche su un'area molto più vasta. Quindi siamo contenti, sono qui con altri dirigenti regionali ad accogliere questo ingresso importante. Azioni in dieci mesi, dicevo prima, sta lavorando, si sta radicando bene sul territorio. Siamo già presenti in queste elezioni amministrative in comuni importanti, tipo Vasto, Francavilla e Roseto, con il proprio simbolo. Quindi c'è un nuovo partito che sta crescendo e sta diventando sempre più attraente rispetto agli elettori. Grazie a tutti.